Buon mercoledì 16 novembre. Mi ero ripromesso di non parlare più della questione relativa a vaccini sì vaccini no, però la cronaca spinge inevitabilmente ad aprire una riflessione, approfittando della questione vaccini per volgere lo sguardo alla disinvoltura con la quale la politica che oggi domina su questo paese sia caratterizzata da una sfrontata ambiguità, una spudorata ambiguità, non c'è pudore. Il sottosegretario al Ministero della Sanità, il viceministro, una persona di rilievo del partito del Presidente del Consiglio, ha disinvoltamente affermato che in fondo non vi è alcuna prova che i vaccini abbiano rappresentato uno strumento efficace nel contenere questa epidemia. Manca la controprova, non si capisce quale potrebbe essere la controprova. Certamente prendere una parte della popolazione vaccinata e l'altra no, sperimentalmente. Un'ipotesi dell'assurdo, visto che poi la questione vaccini si deve porre su un altro livello, ma tant'è. Questo esimio rappresentante del partito del Presidente del Consiglio dei Ministri afferma sostanzialmente, indirettamente, ma piuttosto esplicitamente, tanto da occupare uno spazio nelle pagine dei giornali, in fondo i politici vogliono questo. Far parlare di sé nel bene e nel male, anche se dicono delle stupidaggini colossali. L'importante è far parlare di sé esattamente come ha fatto parlare di sé il fatto che Giorgia Meloni sia andato al G20 con la figlia. Il rilevante è secondario, ma tutto fa pubblicità. Ma torniamo alla questione dei vaccini, perché contemporaneamente il Ministro della Salute ha annunciato una grande campagna di vaccinazione di massa relativamente al Covid e all'influenza. Allora a questo punto, per quale ragione il Ministro di questo governo investe in un percorso di sensibilizzazione alla vaccinazione se il suo Vice Ministro ha dei forti dubbi, sembra quasi delle certezze, se voi andate a ascoltare il video, che in fondo i vaccini non servono un granché. Naturalmente investire su vaccini significa anche investire denaro per acquistarli, per convincere le persone a vaccinarsi, fare pubblicità. Se quel denaro fosse investito invece in qualcos'altro e fosse evidente dell'inutilità dei vaccini, questo andrebbe investito in un sistema di cura che fosse più efficace. Allora, dov'è il punto cruciale di tutta questa pantomina che sta mettendo in piedi questo governo, che sembra avere il vento favorevole dei sondaggi, anche se complessivamente la coalizione contraddittoria messa in piedi rimane sempre ferma, più o meno agli stessi livelli del 25 settembre, dall'altra parte contemporaneamente. Cambiano le percentuali attribuite nei sondaggi e si arriva sempre a una maggioranza politica del Paese, cioè di sensibilità politica, che è contraria a questo interno. Siamo in piena contraddizione. Allora ci spieghino se i vaccini funzionano o non funzionano nella immediatezza come barriera di contenimento della diffusione di un virus. Perché? O è vera una cosa, cioè che sono ininfluenti, o è vera l'altra. È necessario investire per convincere le persone a vaccinarsi. Rimanendo nell'ambiguità e nella contraddizione, si intende raccogliere consensi sia da parte di chi è stato critico, e lo è ancora, nei confronti dei vaccini, sia da quanti si aspettano di essere continuamente vaccinati per potersi proteggere. Giocano su due paure. Quello del vaccino come un fattore di rischio per la salute della popolazione, per tante ragioni, non sto qui a elencare, oppure vengono in soccorso di quanti hanno paura, giustamente, di essere infettati e quindi vengono rassicurati da quello stesso governo che dice esattamente il contrario relativamente ai vaccini. Nulla si dice su una questione che dovrebbe essere un punto centrale dei sistemi di governo. chiedere una verifica nel medio e lungo periodo sui possibili effetti collaterali dei vaccini. Tutto qua. È molto probabile che ciò che è stato iniettato non sia acqua fresca, ma è anche ipoteticamente possibile che ciò che è stato iniettato, essendo una novità relativamente ai meccanismi di azione di un vaccino, possa generare degli squilibri nell'organismo. Malattie autoimmunitarie, degenerazioni organiche di diversa natura. Questo è subiudice, va analizzato, affrontato. Si deve investire, ma non si deve lasciare la ricerca in mano all'industria che ha interesse a produrre e vendere vaccini. Gli investimenti devono derivare necessariamente dal bene comune, dalle risorse che devono essere messe a disposizione attraverso la progressività della tassazione. Chi è ricco paghi molto di più di chi ha poco. Non si cerchino trucchi per non far pagare i ricchi e caricare le conseguenze sulla popolazione a reddito medio-basso che è la maggioranza e che viene irretita dalla seduzione di un potere, ripeto, estremamente ambiguo, propagandista e imbroglione. Questo è il punto. Pertanto io penso che non sia il caso di affidare l'opposizione semplicemente agli schieramenti di partito. Ognuno di noi, nelle nostre comunità, nella nostra realtà quotidiana, apra gli occhi, incomincia a pensare, generi, momenti di riflessione e discussione, pretenda in tutti i modi, partendo dal basso, di ripristinare di fatto una democrazia che deve essere improntata dalla partecipazione della vita comunitaria. Pertanto è una responsabilità di ciascuno di noi, anche ciò che accade in termini di sintomatica presenza della sfrontatezza e della spudoratezza. Veramente, io mi indigno e ricordo sempre, lo tengo nel mio cuore, quanti hanno voluto sottolineare l'inopportunità della indifferenza. Dobbiamo essere presenti, partecipi. Ieri mi è capitato di vedere un bellissimo spettacolo teatrale, ispirato dal mito di Eracle, miti della città, alle cucine economiche popolari. Una argomentazione di intensa bellezza poetica, di tragicità del nostro tempo, nella quale veniva messa in scena, veniva rappresentata, veniva anche in qualche maniera discussa. Un dialogo aperto con la popolazione, così come dovrebbe essere il teatro autentico, non dimentichiamoci, la tragedia greca era un'occasione di partecipazione democratica alla vita della città. Nel teatro avvenivano cose straordinarie, le persone si coinvolgevano profondamente. il teatro ha a che fare molto con la teoria, il vedere, il rappresentare, il mettere in scena. Sì, la nostra vita è mettere in scena. La vita è anche un teatro nel quale noi siamo i protagonisti. Ebbene, in questa opera teatrale, che vi consiglio di andare a vedere, questa sera e domani sera ci sono ancora biglietti disponibili. Si narra un intreccio di eventi che caratterizzano concretamente la vita delle persone nel nostro tempo e portano questo padre separato lungo il percorso della tragedia, della perdita di tutto, dell'impoverimento, del reso povero, da meccanismi perversi che sono pertenenti anche al sistema dei diritti ingessati intorno a una modalità legislativa che non garantisce di fatto il diritto in senso ecologico, ma favorisce quanti hanno una capacità di inscenare forme addirittura persecutorie nei confronti dell'altro, in nome del proprio diritto, che significa obbligo di mantenimento tutto sacrosanto e non c'è nessun dubbio. È giusto che le persone si assumano la responsabilità di quello che fanno, ma purtroppo oggi la forza persuasiva del diritto risiede nella capacità del facente esercizio della difesa legale, cioè degli avvocati, nel essere abili, molto abili, nel difendere il proprio cliente e mettere a ragogna l'altra parte. È interessante perché in questo gioco tragico che viene rappresentato il padre separato ottiene in prima istanza, ottiene e subisce in prima istanza una separazione consensuale riferendosi a un solo avvocato che diventerà sostanzialmente l'alleato della moglie e quest'uomo perderà tutto, finirà sulla strada, a partire dall'essere un insegnante. Io vi ho sommariamente raccontato, ma vi consiglio di andarlo a vedere, perché alla fine c'è un evento che accade, alla fine della rappresentazione teatrale, una pagnotta era stata messa nel forno, la rappresentazione dura circa un'ora e alla fine è stato prodotto un pane che viene condiviso con i partecipanti. Ecco questa deve essere la cifra dell'affrontare le contraddizioni, i conflitti anche intrafamiliari, non attraverso semplicemente la litigiosità. Mi capita analogamente a quanto ho visto rappresentato in quella opera d'arte che è Eracle, Eracle attualizzato nella contemporaneità, nella potenzialità di cadere nella miseria. In nome di meccanismi che lasciano molto perplessi, di adulti assolutamente irresponsabili e privi di coraggio, perché coloro i quali stanno intorno a quest'uomo e manifestano esattamente questo, il rancore, desiderio di vendetta, di appropriazione, è un uomo senza colpa, che non ha colpe, ma viene accusato di qualcosa di terribile, che non ha fatto, non ha la forza di difendersi, perché si dichiara semplicemente innocente e grida il suo diritto di vedere la propria figlia, ma gli viene impedito. Impedire ai padri di vedere i figli, sacrosanto direte voi quando sussistono le condizioni dell'abbandono, della violenza. Ma tutto questo per fortuna è un evento raro nelle separazioni, ma la possibilità che questa rarità si amplifichi. In nome di un mal posto diritto dell'adolescenza e dell'infanzia di essere posti al centro, stiamo caricando i bambini e gli adolescenti di un peso insopportabile, perché diventano oggetto di contesa tra adulti litiganti che rompono i patti di solidarietà, che li avevano caratterizzate all'incipite della loro relazione. Chiariscano quanti si accingono alla convivenza, quale strada intendono percorrere, se quello della condivisione del pane o quello del diritto esasperatamente individualizzato. Perché in queste due prospettive creeranno condizioni di crescita dei bambini e degli adolescenti in prospettive contrapposte. Quello della cultura, attualmente minoritaria, ma sicuramente salvifica quella ecologica dove avviene semplicemente la condivisione, anche laddove vi sia difficoltà e conflitto. Dall'altra parte si allude sempre costantemente alla necessità della competizione, della meritocrazia, dello sgomitare. E dentro tutto questo non abbiamo rispetto per l'infanzia dell'adolescenza, che devono essere lasciati in pace, non trasformarli in giudici tra litiganti con presenza di avvocati di difesa, che se non hanno una prospettiva ecologica incrementano il livello di conflittualità. È un tema molto delicato, quel tema delicato che ci porta anche all'esperienza psichiatrica di riforma radicale del 1978, avversata dalla cultura dominante del tempo, di destra e purtroppo anche di sinistra, perché Basaglia non fu un uomo particolarmente amato dalla sinistra. Lo ricorda anche il testo di Outout sull'esperienza di Colorno, il quale si afferma che fu una opposizione a iniziare questa esperienza nel manicomio di Colorno, provincia di Parma, da parte proprio della direzione del partito comunista dell'Emilia Romagna, per il semplice motivo che Basaglia sì era un uomo culturalmente di sinistra, riformatore, anche radicale nelle sue posizioni, ma aveva un difetto, quello che pensava con la propria testa, che cercava in tutti i modi di non farsi assoggettare dalla dinamica di partito. Era un uomo libero, semplicemente questo, un uomo libero, che non aveva come finalità il potere, ma la liberazione, che è esattamente il contrapposto del potere, che è sempre e comunque schiavitù, anche quando si presenta con il volto della democrazia. Noi siamo chiamati a un processo liberante, costantemente, attento, sensibile e mai indifferente. Questo è il punto fondamentale. Ebbene, l'esperienza di Basaglia si cercò di fermare fin da subito attraverso un episodio accaduto nella liberalizzazione del manicomio di Gorizia. Si diede l'opportunità a uno degli internati di tornare a casa. Era un alcolista. Tornò a casa, incontrò la moglie e lì avvenne una discussione piuttosto conflittuale, relativamente probabilmente alla affettività, al tornare a fare l'amore. Tutto qua è. Vi fu una litigiosità, una spinta, una caduta da scale. Purtroppo la moglie muore e a quel punto si accusa Basaglia di essere un irresponsabile. Si prende quell'episodio per trasformare tutti gli alcolisti e gli internati come potenziali omicidi. E Basaglia, in una conferenza stampa, che lo farà anche in sede di difesa, mette in evidenza come gran parte degli omicidi è opera di persone che non hanno una diagnosi psichiatrica. Non hanno una diagnosi psichiatrica e non sono neppure internati, non sono in cura presso i servizi psichiatrici. Cosa facciamo? Di fronte alla potenzialità che l'homo sapiens possa generare un omicidio in maniera precauzionale lo interniamo? Lo sottomorniamo a un controllo costante, il sogno delle grandi dittature nel tempo della tecnologia, dei droni e dei braccialetti che monitorino le intenzioni magari. Nel immaginario collettivo è possibile pensare che possano esplorare anche i nostri pensieri se troveranno la tecnologia giusta. Ebbene, se costruiamo tutto il sistema del diritto sull'episodio raro e trasformiamo questo episodio raro come la norma che è insita in una condizione che può spaziare appunto dalla litigiosità conflittuale tra contendenti in una relazione affettiva che è stata anche generativa di figli e figlie e poi lo spostiamo anche nel campo dei disturbi del comportamento e dei disturbi mentali, creiamo sì un meccanismo di difesa ma un meccanismo di difesa che è ostativo ai meccanismi ecologici che dovrebbero sovraintendere la nostra esistenza, a un'ecologia del diritto sul quale purtroppo è stato scritto molto poco e fatto ancora molto meno. Quell'ecologia del diritto che non pone al centro nessuno ma riconosce che la vita è una rete intrecciata di fronte alla quale dobbiamo incrementare non la separazione ma la condivisione. Sto parlando della separazione tra coppie conflittuali, sto parlando dell'isolamento delle variabili, quell'isolamento delle variabili che porta a processi di semplificazione disumana e allo stesso tempo dovremmo essere in grado di promuovere uno stile anche professionale e di rivalutazione delle condizioni che non sia frammentato. Oggi in una litigiosità di coppia nella quale ci si contende l'affidamento dell'educazione e della crescita e maturazione dei propri figli c'è una frammentazione di servizi, il consultorio si occupa della coppia, i servizi sociali del comune o comunque delegati all'azienda sanitaria si occupano dell'attenzione nei confronti dell'educazione dei figli. La neuropsichiatria infantile si focalizza sui minori ai quali viene chiesta la disponibilità di sottoporsi a una cura che è una specie di cura che in qualche maniera elude la questione centrale, è una cura sintomatica, si perde totalmente di vista che tutto ciò è generato da una dinamica relazionale che dovrebbe essere allargata, non ristretta. È la stessa cosa che è stata fatta nel campo dell'alcolismo e di tutte le condizioni di disagio spirituale. Focalizziamo una parte, dimentichiamo le relazioni, la mettiamo al centro per emendarla, per rimediarla. Perdiamo di vista le variabili concorrenti. È un discorso molto ampio che ci porta all'ecologia sociale antropo-spirituale, all'ecologia profonda contenuta nelle due encicliche di Papa Francesco Laudato Si e Fratelli Tutti. È sulla forza, è sull'entusiasmo e la passione generata in me, ma credo anche negli altri partecipanti di questa rappresentazione teatrale, credo sia giunto il momento di alzare la testa, di alzarsi dalle proprie sedi, uscire dalle proprie case. Costruire una vita comunitaria autentica, far sì che i club testimonino realmente di riconoscere che il diritto, o è ecologico o non è diritto, costituisce semplicemente, qualora ci sia l'attenzione solo al singolo, costituisce una indisponibilità a cambiare la cultura. Per avere rispetto dei colori quali hanno una diversa inclinazione sessuale, dobbiamo emendare i pregiudizi che vivono in noi. Non possiamo pretendere di essere persone senza pregiudizi, li abbiamo e come, ed è da lì che noi dobbiamo partire, non semplicemente nel riconoscere il diritto nell'altro. Liberiamoci dei nostri pregiudizi, allora quel diritto, non vi sarà alcuna forza politica che potrà cancellarlo, se facciamo invece come stiamo facendo ora, cioè una indisponibilità a metterci in discussione, qualsiasi anche mediocre forza politica riuscirà a trasformare. La questione del rispetto della diversità è una questione su temi eticamente sensibili, riportandola a una morale ipocrita, confusionaria e spudorata. Quello che alimenta l'attuale governo del paese, gestito da persone propagandistiche, e scusate, lo dico con molta forza, non perché voglio difendere l'opposizione, perché il moralismo c'è anche dall'altra parte. C'è paura, c'è indisponibilità a esprimere con pienezza le proprie convinzioni, ossessionati dalla ricerca del consenso. Anche se i sondaggi ti fanno perdere due punti percentuali, lo dimostra quanto accaduto negli Stati Uniti con Biden. Lo si dava per sconfitto, con una travolgente vittoria di Trump. È bastata una mobilitazione collettiva, che ha riguardato soprattutto la condizione giovanile, sulla questione di un diritto aperto, democratico, evolutivo. I sondaggi sono stati sconfermati, ma bisogna avere il coraggio di dire le cose, ma soprattutto bisogna avere il coraggio di agirle indignati, indignati, non indifferenti, presenti e coinvolti. Questo è l'appello che io rivolgo dopo aver visto quella splendida opera teatrale, è estendere la logica dell'ecologia sociale antropo-spirituale anche su queste tematiche, che riguardano la malposta posizione dei bambini, dei minori, degli adolescenti, al centro, no al centro, nella rete. Ma non si forzi la mano, trasformandoli in soggetti sintomatici bisognosi di cura. È la rete che va curata. Non si deve mai focalizzare l'attenzione su una parte ed emendarla come se fosse la ragione ostativa della necessità di ritrovata armonia. Se vogliamo cercare l'armonia sicuri la rete, ma ognuno sia disponibile a mettersi in discussione. Buona giornata a tutti.